Il Comune e la ASL vogliono rilanciare la campagna di sensibilizzazione verso la donazione degli organi. Un'equip della ASL incontrerà a breve, il prossimo mercoledì, i dipendenti del Comune dell'Aquila che sono addetti al rilascio delle carte d'identità elettroniche dell'anagrafe. L'iniziativa rientra in un progetto nazionale. Nel momento di richiesta della carta elettronica, i cittadini avranno la possibilità di esprimere l'assenso alla donazione degli organi. Una dichiarazione che viene registrata all'interno del sistema informativo dei trapianti e che sarà consultabile in tempo reale in presenza di un potenziale donatore per verificare l'esistenza della volontà alla donazione della persona. Una volontà che però potrà essere modificata nel tempo. Il tema è molto importante e lo scopo del progetto è quello di costituire una rete di solidarietà affiducia tra le persone favorendo la crescita del sistema sociale e sanitario. La rete delle donazioni dei trapianti rappresenta un'eccellenza grazie al lavoro del centro nazionale e di quelli regionali con le rianimazioni ai centri per il trapianto compreso quello dell'Aquila. L'assessore Paola Giuliani spiega a rete 8 che non è che la gente dice no quando gli si chiede della volontà donare, piuttosto preferisce non pronunciarsi e lasciare la scelta ai parenti. Negli anni precedenti, spiega la Giuliani, la ASLA ci dava degli opuscoli e dei manifesti. Ora si è voluto fare un corso per dare ulteriori suggerimenti al personale e incentivare gli utenti a donare. La Giuliani spera che ci sia un'adesione davvero di massa.